Rappresenta un biglietto da visita certificato per le località bagnate dal mare pulito, che garantiscono servizi di qualità, tanto da contribuire ad orientare anche le scelte delle vacanze. A Termoli la bandiera blu può sventolare ancora e si tratta della dodicesima volta, confermando così gli standard previsti dalla Fondazione Europea per l'Educazione Ambientale. Un riconoscimento attribuito anche a Campomarino Lido e alla Marina di Petacciato, mentre Montenero di Bisaccia dovrà aspettare l'anno prossimo per esporre il vessillo. In città è stato il commissario prefettizio Laura Scioli a presidere la cerimonia di consegna delle bandiere agli operatori turistici. Hanno partecipato il comandante della Capitaneria di Porto Antonio Nasti, i dipendenti e i responsabili del comune che hanno seguito le procedure della candidatura. Il risultato, affermato la Scioli, è stato raggiunto con il contributo di tutti i cittadini, perché il mare è un bene comune da tutelare. In tutte le spiagge termolesi, osservato il commissario, sono stati rispettati i parametri. La bandiera, aggiunto il Capitano Nasti, evidenzia che questo territorio ha saputo conquistare il riconoscimento che minorgoglisce come cittadino acquisito e premia anche il lavoro svolto dall'autorità marittima. Un lavoro di sinergia che ha premiato tutta la comunità a tanti obblighi che devono essere rispettati dai belneatori e dal comune, anche in vista dei controlli campione che saranno svolti direttamente dalla Fondazione Europea. Grazie. 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 Grazie.